Facciamo così, cambiamo strategia. Visto che nelle settimane passate non ho mai voluto affrontare in un video il discorso voci su Romero Lukaku, alla Juve, al Milan, perché le ritenevo fake news, parliamo di questa. Esorcizziamola subito, così probabilmente sarò uno di prima a parlarne. Esorcizziamola subito. È arrivata nella serata di ieri questa notizia dove dice che una squadra araba non ben definita abbia offerto 60 milioni all'anno per un contratto di 4 anni, per un totale di 240 milioni a Lautaro Martinez. La fonte è TC Sport, credo sia un portale argentino, quindi diciamo che può avere anche un certo tipo di fondamento, comunque può avere un certo crisma di veriticità per quanto riguarda la notizia e appunto sia arrivata questa offerta. Al momento è il giocatore per capire se il giocatore può essere interessato, poi eventualmente se il giocatore sarà interessato si andrà a trattare con l'Inter. Che dire ragazzi? È negabile che se la notizia fosse confermata e fosse vera, qui si sta parlando di 60 milioni all'anno, cioè 240 milioni per 4 anni. Vuol dire che Lautaro Martinez sistema la sua e tutte le generazioni che poi a cascata deriveranno da lui e dalla moglie, quindi metterebbe a posto i suoi figli, i figli, i nipoti, i stranipoti. Quindi capite bene che un ragazzo di 26 anni che va a prendere una cifra del genere, praticamente a 30 anni può tornare in Europa o può andare addirittura a giocare in Argentina per divertirsi. Non mi sentirei in particolar modo di criticare tra virgolette la scelta perché davanti a certe cifre è veramente tanto. Mi sentirei invece di criticarla e parecchio se lui dovesse mai pensare di accettare una roba del genere perché comunque quest'anno lui sarebbe il capitano dell'Inter. Andrebbe praticamente a svernare, ragazzi, quello è un campionato che per quanto loro stiano cercando di alzare il livello è un campionato ridicolo ad oggi. È chiaro che la gente va lì solo e esclusivamente per i soldi e anche da questa parte, apro una parentesi, credo che la FIFA debba fare qualcosa. La FIFA deve fare qualcosa perché proprio l'altro giorno, qualche giorno fa è venuto fuori che l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma e altre squadre sono state promosse dalla UEFA per aver rispettato in maniera scoporosa il proprie finanziario e poi dall'altra parte del mondo che è sempre sotto la FIFA perché non è che in Arabia hanno un altro ente di controllo, è sempre la FIFA tant'è vero che la squadra dove è andata a giocare Brozo pare che abbia il mercato bloccato perché non ha pagato dei bonus a una squadra per aver comprato un giocatore ora non ricordo bene qual è, la notizia è quella. Quindi possono intervenire, devono fare qualcosa perché non è possibile una roba del genere cioè questi dischi è un impoverimento, in questo caso il campionato italiano ma anche di altre leghe, già più complicato in Inghilterra perché li hanno il potere economico per trattenere i giocatori, anche se in Europa abbiamo l'esempio del PSG e del Manchester City che fanno un po' quello che vogliono però tutte le altre squadre sono un po' controllate, lo stesso Barcellona, Real Madrid, quindi bisogna fare qualcosa perché è innegabile che se a un giocatore di 26 anni arriva una proposta di 60 milioni che lui potrebbe anche rifiutare ma quei 60 ragazzi possono diventare 70, 80, 90, cioè possono arrivare offerte come quella che ha convinto CR7 che si hanno ruonato ad andare lì, 200 milioni all'anno, ora non credo mai arriveranno ad offrire 200 milioni all'anno per Lautaro Martini, però possono arrivare facilmente vicino ai 100, se li hanno offerte i 60 che cosa li cambia? Cioè arrivare a 70, 80, 85 non li cambia nulla e magari ipotizzo un'offerta da 150 milioni all'Inter che con le problematiche che ha l'Inter sul mercato potrebbe anche far vacillare alla società e lì mi auguro che l'Inter tenga il punto, ovvero dica è vero l'offerta è incredibile però noi non abbiamo bisogno di vendere perché esattamente come fu per Lukaku quando lo vendette da 115 milioni, Ausilio e Ausilio Marotto non lo volevano vendere perché avevano venduto già a Kimi e dal punto di vista contabile, chiamiamolo così, del bilancio erano a posto fu Zhang a dire vendiamolo e poi si venne a sapere che comunque fu molto Lukaku a spingere per andare quindi qui potrebbe succedere la stessa cosa per quanto la società nei dirigenti che lavorano sul campo possano anche tenere il punto e dire no perché Lautaro mi pare un contratto fino al 2028 o 2027, comunque è un contratto ancora lunghissimo con l'Inter quindi l'Inter ha in mano il giocatore, lo ha blindato l'anno scorso ma di fatto che comunque dinanzi a certe offerte soprattutto al giocatore perché tu puoi anche fare tra virgolette l'eroe come società e dire no io ti tengo, non ti vendo però se tu il giocatore lo costringe a rimanere qui e lui ha in testa l'offerta araba da 60, 70, 80 milioni di anni è complicato poi trattenerlo perché poi basta un gol sbagliato, basta una prestazione non all'altezza per far dire ecco Lautaro ha la testa lì e Marotta l'ha sempre detto noi non teniamo i giocatori che ci chiedono di andare via ora, la notizia è che Lautaro pare abbia già rifiutato non c'è nulla di ufficiale, il ragazzo può anche essere che non sia interessato a andare lì ora, ripeto, quest'anno lui è l'anima dell'Inter, è la faccia dell'Inter sarà il capitano, veramente il giocatore più importante quindi può anche essere che la sua voglia ancora di calcio di un certo livello lo convinca a rimanere qui, ma ripeto, lui può anche rifiutare 60 ma se da 60 arrivano vicini ai 100, io la vedo dura che un giocatore possa decidere di rinunciare a certe offerte ci può essere il fatto del familiare, che magari la moglie lì non ci vuole andare tutto è possibile, ovviamente noi speriamo che lui decida di rimanere ad alti livelli e di rimanere ad alti livelli qui all'Inter in Italia ma c'è il pericolo, perché ripeto, se la FIFA non pone rimedio non pone un tetto, non pone un limite a queste offerte è chiaro che c'è qualcosa che non va perché se io, Inter, devo stare attento anche ai soldi che spendo per la cancelleria in sede non è possibile che dall'altra parte del mondo, sempre sotto la FIFA arrivino questi qui che di punto in bianco decidono come giocattolo di appassionarsi al calcio e ti portano via tutti i giocatori più importanti nonostante tu ce li abbia sotto contratto quindi questo è un qualcosa che mi auguro non succeda perché vendere l'Otoro Martinez sarebbe veramente un problema tecnico in primis ma anche per quanto riguarda l'ambiente perché vorrebbe dire di potenziare parecchio perché un attaccante come l'Otoro Martinez a prezzi diciamo abbordabili non lo trovi dovesse andare a scommettere e andare a rifare totalmente il parco attaccanti sarebbe veramente, veramente, veramente un problema per l'Inter veramente un enorme problema per l'Inter perché vorrebbe andare a scommettere correrà nemmeno lo calcolo vorrebbe andare a comprare altri tre attaccanti perché ti rimanebbe solo Turam avreste bisogno di altri tre attaccanti e devono essere tutti tre titolari e vorrebbe dire avere un parco attaccanti completamente nuovo e non avere nessun punto di non avere nessuna certezza nessun punto di ripartenza per l'anno dopo mi rispetto, mi auguro che sia un interesse che soprattutto il giocatore spenga il prima possibile comunque signori se sarà il caso mi auguro di no ne torneremo a parlare ripeto, ho deciso di parlarne per una questione scaramantica visto che non avevo parlato per niente di Lukaku da altre parti e non ha portato bene parliamone subito di questa cosa e magari già in giornata di oggi o al massimo nei prossimi giorni si spegnerà tutto me lo auguro perché ripeto perdere l'autorio Martinez anche dinnanzi a un'offerta clamorosa per l'Inter vorrebbe dire non sarebbe un bel segnale ripeto, sarebbe veramente consegnare in mano a Enzaghi una squadra che non ha quasi più nulla di quella che l'anno scorso è arrivata in finale di Champions League ripeto, mi auguro di non dovranno più tornare a parlare perché vuol dire che la notizia è poi finita nel nulla ok ragazzi, io vi auguro una buona giornata vi ringrazio soprattutto di quelli che mi seguono che si iscrivono buona giornata ma abbiamo di farlo come sempre forza, 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 forza Inter